Musica Notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Udina, le 22.20 di ieri sera La seconda squadra della sede centrale è intervenuta in via centrale a Reana del Royale per un incidente stradale Giuti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato un'autovettura che per cause ancora al vaglio di accertamento da parte dei carabinieri del NORM Era uscita di strada in maniera autonoma finendo la sua corsa nel porticato di un noto ristorante che fortunatamente al momento del sinistro era chiuso Mentre il personale sanitario del 118 si prendeva cura dell'autista condotto in ambulanza successivamente all'ospedale di Udine Prognosi riservata fuori pericolo di vita I vigili del fuoco provvedevano a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l'area del sinistro Il tutto si è concluso poco dopo la mezzanotte Il tutto si è vero